Cari amici di Runner451, benvenuti nello studio virtuale di Runner451. Oggi quello che voglio condividere con voi è una riflessione a voce alta, aprire anche una discussione, quindi vi chiedo di commentare sotto il video, se lo state vedendo su YouTube, Instagram o Facebook, e vi risponderò sicuramente. Allora, quando è il momento giusto per correre una maratona? Sia che sia la prima volta che voglio correre, anzi soprattutto, ma anche quando le voglio programmare. La prendo larga per arrivare subito al punto. Nella vita, quando cerchiamo di razionalizzare una decisione, quando è il momento giusto per cambiare lavoro, sposarsi, fare figli, cambiare la macchina, beh, questo è già più facile, se mi metto a razionalizzare non è mai il momento giusto. Anche per la maratona bisognerebbe fare dei ragionamenti, ma se vi mettete a ragionare troppo, probabilmente, soprattutto per chi non l'ha mai corsa, non la correrete mai. Quindi, andate un po' anche di cuore e di istinto. Allo stesso tempo, però, vorrei condividere con voi alcuni punti che, secondo me, sono importanti nel momento in cui decidete di fare il grande passo, oppure anche per chi già la corre, in cui decidete di voler ottimizzare e migliorare il risultato che avete conseguito senore. La prima cosa, non confondete le classiche 12 settimane proposte nelle tabelle che si trovano anche su un sito per la maratona, come il periodo necessario per preparare la maratona. Per chi l'ha già corsa, quelle 12 settimane, all'inizio delle 12 io, dovrei essere già quasi in grado di correre i 42 km, che probabilmente, anzi sicuramente non ha il ritmo gara che voglio seguire e che posso ottenere, ma dovete pensare che quelle 12 settimane, i 3 mesi, sono un periodo specifico in cui andare ad ottimizzare le qualità, in cui andare a trovare il picco di forma, in cui andare a sviluppare il mio ritmo gara per i 42 km e i 195 metri, evitando di avere crisi durante il percorso. Per chi invece è alla prima maratona, ci può stare che all'inizio delle 12 settimane l'autonomia non sia ancora così alta, ma sicuramente non può essere di 10 km. Diciamo che se siamo vicini ai 26-30 km è la cosa ideale. Sicuramente andare anche per chi è alla prima maratona, nell'andare a migliorare alcune qualità che me la facciano correre un po' più veloce, perché ricordatevi che più ore state sulle gambe, più diventa faticoso, quindi l'obiettivo la corro il più lento possibile per arrivare in fondo, non è sempre valido, anzi quasi male. L'altro aspetto però è che il mio obiettivo come novizio della maratona è arrivare al traguardo, braccia al cielo con il sorriso e stare bene dal minuto successivo ai giorni successivi, in cui avrò bisogno di recuperare ma non devo avere problemi. L'altro aspetto è concentrarvi sul tempo che avete a disposizione nella settimana. Io, con i tanti runner che seguo, poi qualcuno, cioè riuscite anche con tre, consiglio di avere almeno qua la disponibilità di fare quattro allenamenti a settimana. Ci può stare che i tre infrasettimanali siano molto lunghi, se non potete fare diversamente con lavoro e famiglia, perché bisogna tenere conto anche di questo. Nel weekend devo avere più tempo per lavorare sui lunghi. Lunghi, lunghissimi, che non è detto che devono essere sempre a ritmi lenti, per i principianti ci sta, perché devo sviluppare alcune qualità. Per chi l'ha già corsa sicuramente bisogna variare anche nella tipologia dell'allenamento del lunghissimo. L'altro aspetto è considerare ancora un po' di tempo per fare allenamenti non di corsa, ma di miglioramento della forza, potenziamento del core, flessibilità. Soprattutto l'allenamento della forza muscolare, sempre più ricerche mostrano come è fondamentale sugli sport di resistenza, e quindi sulla corsa, e più si allungano i chilometri, più la capacità di reclutare fibre muscolari, fibre muscolari più forti, mi possono permettere di non avere crisi, di non avere cale, di arrivare al risultato. Quindi, indefiniti, ma fatemi sapere un po' se avete già corso la moratona, come avete deciso, scrivetelo nei commenti, e qual è stato un po' il vostro percorso, se è andata bene, se poteva andare meglio. Se non la dovete ancora correre, confrontatevi con gli altri runner che ancora non hanno corso la maratona, ricordandovi che non è obbligatorio correrla. L'importante è fare quello che vi diverte, che vi piace, che vi stimoli, gli obiettivi sono importanti, non sentitevi runner di serie B se non avete mai corso la maratona e se pensate di non correrla. Non è obbligatorio. L'importante è che vi divertiate. Se vi è piaciuto questo video, seguite runner451 su YouTube, Instagram, la pagina Facebook, e sul sito dove trovate tantissimi articoli, tra cui tanti altri articoli con tabelle e consigli per correre la maratona, nonché il mio servizio di allenamenti personalizzato con cui seguo tantissimi runner. Ci vediamo alla prossima, cari amici.